Il professore di storia, un ottimo elemento. Gino all'ultimo momento ha perso il posto. L'estate del 60 c'è il governo Tambroni, dei disordini a Reggio Emilia, cinque o sei cittadini uccisi dalla polizia, e Gino era triste. Trova una bella ragazza e se ne va in Sicilia, in un piccolo villaggio nel cuore del Mediterraneo. Il sole, l'amore, lo iodio, il corpo. Quando tornerà a Milano, alla fine del mese, avrà in tasca a Malapina gli spiccioli per il filobus, ma anche un foglietto, sul quale ha scarabocchiato alcune note. Queste. Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti Ma alberi, alberi infiniti Quando sei qui vicino a me Questo soffitto viola No, non esiste più Io vedo il cielo sopra noi E che restiamo E avanti